All'inizio di quest'anno è stata rinnovata la Commissione delle Comunità Europee, cioè l'organismo che rappresenta un po' il motore, l'esecutivo della comunità stessa. Dopo la sua Costituzione, la Commissione ha definito alcuni degli obiettivi fondamentali che dovranno informare la propria attività nel corso dei prossimi anni. Fra questi figura, e non poteva essere altrimenti, la realizzazione del mercato unico interno che dovrà essere completato entro il dicembre del 1992. Al riguardo va detto che delle 279 proposte che erano state in un primo tempo codificate e ritenute necessarie per il completamento del mercato interno europeo, oltre 100 sono già state approvate definitivamente dal Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri della Comunità Europea rappresenta l'organismo che decide in termini definitivi la politica comunitaria nei suoi vari aspetti. A riguardo va detto che vi sono alcune diverse norme importanti che debbono essere attuate, ma da parte della Commissione vi è un accentuato impegno per portarle avanti, per evaderle. Talvolta i ritardi si registrano per quanto riguarda l'operato dello stesso Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda ancora la politica comunitaria, va detto che un recente sondaggio ha messo in evidenza che la grande maggioranza dei cittadini europei desiderano trasferire dal livello nazionale all'ambito comunitario alcuni settori fondamentali. Fra questi figura in primo luogo la difesa dell'ambiente, vi è poi la ricerca scientifica e tecnologica e vi sono inoltre le relazioni con il terzo mondo.